Fa che il sole non scenda e cali la tenebra, prima che io abbia raso al suolo il palazzo di Priamo e l'abbia bruciato gettando il fuoco contro le porte e abbia squarciato a brandelli sul petto la tunica ad Ettore col bronzo e attorno a lui molti compagni stesi nella polvere mordano la terra coi denti. Ancora una volta gli dèi sono espressione del potere, cioè accettano i doni, accettano il banchetto si appropriano dei sacrifici fatti dai mortali però quando si tratta di restituire non restituiscono nulla in cambio cioè accolgono la preghiera, diciamo quello che viene sacrificato da Agamennone ma ovviamente deluderanno le sue aspettative per cui quando si tratta di raccogliere si raccoglie, quando si tratta di dare, non so tipo restituire 49 milioni adesso parlando dei rosari mi è venuta in mente questa cosa, non so perché, 49 milioni di euro poi dopo non si vede nessuno intanto però, con un flashback, Omero ci riporta a Troia Troia è una città invece molto un po' più di vita, un po' più easy, un po' più rilassata infatti a Troia ci sono tutti là che si perdono in chiacchiere e Omero a un certo punto, tra tutti questi che si perdono in chiacchiere, descrive anche due vecchietti che stanno sui bastioni, perché all'epoca non c'erano i cantieri per cui dove si fissavano i vecchi? sui bastioni, che stanno lì sui bastioni e sembrano i due vecchietti dei mappets hai vista Elena? hai vista Elena? mazza che gnocca è bellina una guerra, una guerra per cui la si può fare assolutamente sì ha meritato tutta una guerra d'accordo, d'accordo d'accordo, certo, nove anni sono tanti però sono un po' troppi ma forse se ne può tornare a casa io penso che se ne può tornare sì, anche perché no, poi si invecchia, dopo ci stanno gli più giovani insomma, ma poi andamola a casa no, forse è il caso sì che vado a casa e quindi, mentre c'è questo, veramente, dicono queste cose, questi due vecchietti tipo mappets, Zeus, dall'alto per Zeus, Troia è una città sacra viene spesso utilizzata all'interno dell'idea della parola sacra ilio perché Zeus dice ad Aera di tutte le città a me la più sacra è ilio perché lì non è mai mancata la mia parte nei banchetti, nelle ribagioni e Zeus, quando si accorge che questi troiani sono lì che cazzeggiano mentre fuori dalle mura si sta radunando il più grande esercito della storia umana fino a quel momento manda Iride che Iride è tipo Hermes, una sua messaggera insomma, è un'altra che fa parte del Pony Express degli dei e la manda a svegliare i troiani, a portare un messaggio intanto